Buongiorno, mi chiamo Gianni Pratacanceli, sono di Frosinone, nel Lazio. Incontrando un amico mi diceva di questo posto qui in Moldavia e mi sono informato un po' e ho visto che era fattibile venire qui in Moldavia. Sono qui perché ultimamente ho perso più di qualche dente avanti e non riuscivo più a mangiare né a sorridere come naturale. E allora ho deciso di fare questo passo, di venire qui e di iniziare questo processo con i denti. Ho visto nei mesi che mangiare è migliorato, sono ritornato come ero, originale, da ragazzo. E niente, quindi posso solamente consigliare questo posto in Moldavia per tutti quelli che vogliono continuare a mangiare normalmente, a sorridere e oltre ai denti poi approfittare di andare a visitare la Moldavia che è molto bella. Sono rimasto contento, i ragazzi sono bravissimi, preparati e tutta l'equip, dal dottore alla logistica, ai ragazzi che ti portano in giro e guide per passare insomma il fine settimana, tutti bravi. Sono felice, rido, cioè sono contento.